I galleggianti delle cassette dei water rimossi per ben due volte in pochi giorni, costringendo i tecnici ad intervenire, ma qualche tempo prima erano state delle palline di carta igienica ad essere messe nello scolo delle acque che portano le grondai a provocare problemi al primo temporale e ancora maniglie delle porte danneggiate o chiavi rotte nelle serrature accade alla scuola media di Spresiano. Dobbiamo intervenire quasi settimanalmente in quel plesso, probabilmente si tratta di danni fortuiti, ma questo ripetersi nel tempo ci lascia un po' perplessi, quindi attenzioneremo nei prossimi giorni gli episodi, spiega Giuseppe Mestriner, assessore alle manutenzioni, che ha avvisato dell'accaduto il primo cittadino della pietra, che su Facebook in un post ha avvertito gli studenti su quella che sarà la sua azione nel caso si dovesse ripresentare per la terza volta il problema nei bagni. Invece di chiuderli lascio rotti, allora io capisco la bravata, guardate io sono stato il primo a farle nei miei anni, però la bravata è una, quando la reiteri comincia a diventare un comportamento criminale, quando la fai tre volte vuol dire che sei proprio da educare. La mia è una provocazione, continua il sindaco, per stimolare genitori o compagni di classe a farsi avanti, ma soprattutto perché non succeda più. Il primo cittadino poi condivide la posizione del collega di Treviso, Mario Conte, alle prese con atti di vandalismo più gravi nei quartieri della città, che ha lanciato la proposta di corsi d'educazione civica anche per genitori dei ragazzi che compiono queste azioni. Potrebbe essere una soluzione, anche perché magari poi un genitore avrebbe più occhio con i confronti dei figli, quindi sono perfettamente d'accordo. I genitori sono in qualche modo coinvolti e responsabili dei gesti dei propri figli? Guardate, io ho mia figlia maggiore che è proprio alle scuole qui, quindi se dovessi sapere che è in qualche modo coinvolta in queste condotte, probabilmente ecco la prossima volta che uscirà sarà maggiore N. Grazie. Grazie.